Allora, sì qui devo aspettare Questo coso, ok allora, due secondi perché devo assolutamente vedere se l'ho salvato in qualche screenshot, io mi ricordavo di sì Però non è detto che io li abbia tenuti Quindi adesso sto scorrendo sul mio cazzo di telefono e dovrete aspettare un attimo perché non ho intenzione di ritrovarli tutti quanti Perché era abbastanza lunga come cosa Quindi già, lo aspetterete qui Con la mia voce Che non sta dicendo niente Sta solo prendendo tempo perché non sto trovando quello che sto cercando Mi sa che li ho cancellati, porca la vacca Fermi Fermi ci sono Fermi ci sono, sono sicuro Sono sicuro che li avevo fatti Sono anche abbastanza, altrettanto sicuro Che già li ho cancellati Porca vacca Ok, va bene, dovrò rifarlo Porca troia, io pensavo già di 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 imbrogliare, va bene Ok Andiamo Oh mio dio Eh no, madonna C'è ancora roba Ah sì, perché c'è giustamente la cosa lì La La roba lì Di qua potevo fare qualcosa No, mi sa che sono entrato per un cazzo di niente Sono scemo Sono scemo, sono entrato per un cazzo di niente Eh già Eh già Ah sì, ervicida Bla 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 Ok Distruggi la pianta 43 Sto andando proprio Guardami Allora Questo invece se lo combino con questo Polvera sparo grande Con quella bianca Faccio quelle da acido Però io voglio quelle da acido Non so Perché non ho mai Visto che facevano Granché Eeeh Hmm Ok, andiamo Andare di qua Oh merda Oh merda Ok, devo andare di qua Per aprire qualcosa La combinazione era Dov'è Dove sono le mie foto Cazzo L'ho fatta due secondi fa Ok, eccola Allora Sono questi due cosini Yes Poi c'erano i due puntini Uno sopra l'altro Quelli Quelli di grandezza uguale Sì Quelli di grandezza uguale Poi c'era questo coso E poi c'erano anche Le due linee Verticali Enter Oh yes Ok Bene E uno è fatto Via, 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 via Che ciaone Ciaone Non mi vedrete mai più Ve lo prometto C'era qualcosa da prendere Qui in fondo Yes Ovviamente Una mappa Del laboratorio E altra polvere da sparo Basta eh Sì Basta Allora Poi se non sbaglio Dovevo mettere il modulatore Tipo da qualche parte Nella stanza dei server Serviva qualcosa Per entrare Ah giusto Serve la corrente qua Per entrare Maledizione E siete bastardi E l'attivo lì Io ho la corrente Ok 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 Allora Cosa grande Se combino le due grandi Cosa succede? Ok Prendo un botto di munizioni Per la pistola Non male Non male Ok Allora Urf Vediamo dov'è Urf Qua Bene Ha impostato Surf Ok Adesso vi ho fatto Allora Fermi un attimo Devo vedere Se posso prendere qualcosa Qua Parte l'erba verde Questi non sono un cazzo Di niente Ok No Non ho preso tutto Mi segna che non ho preso tutto Maledizione Cazzo 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 Sprecato i due colpi What? Ok Sta andando veramente male What? Ma che cazzo Ma ero full Ma ero full Raga Raga Ero full Vi giuro Non Ok Va bene Va bene gioco Va bene gioco Non ero full Se lo dici tu Io ci credo Ah beh Forse mi aveva colpito In effetti Dove diavolo sono? Minchia Sono qua? Ma siete seri? Ma che sbatta? Cioè tutto mi devo rifare Ma che sbatta che siete? Madonna Madonna va bene va bene Mi rifaccio tutto E che cazzo Ok Ok Scusate se sto Abusando del vostro tempo E della vostra pazienza Raga ma dobbiamo rifare tutto Quanto pare Bello Beh almeno Almeno posso non farmi grabbare da questo tizio Ad esempio No però mi sa che È meglio Prenderci un po' Di tempo Ecco Va a cagare Spendo un po' Di munizioni E sti cazzi Ok Siccome adesso so già Stronzi So già il coso Io lo disattivo subito No Non era questo? No non era questo Maledizione Era questo Più questo Più questo E più le due lineette Ok Fatto Benissimo Poi mi piglio questo Perfetto Vaporizza No dammelo 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 il contenitore Cazzo se lo tieni Lol Ok Eh adesso Prendo questa Poi me ne vado di qua Prendo tutta la roba di qua Tutte le super minchiate Che ci sono da leggere Fatto Ho letto tutto Poi C'era altro? Perché io mi ricordo Eh infatti c'era una granata Dove cazzo era? Ce l'aveva sto tizio? Ah qui Qui a terra Ce l'aveva qui a terra Sto tizio Tizio comune Con a terra le granate Va bene Andiamo Questa è fatta Ho aperto questa cosa Mi ci getto contro Ciao Non voglio neanche vedervi Vado qui A prenderle cosine Ok Mappa e mappa Fatto Bene Sono già tornato Al punto di partenza Raga Eh Cazzo di genio sono Qui c'era roba Non mi ricordo Manco più No Non c'era roba Wait Cos'era? Uh ehi Questo non l'avevo trovato La prima volta Allora Combiniamo E non lo so però Cioè adesso le munizioni Per l'arma normale Mi sa che me ne faccio Una sega Quindi Magari è meglio Combinare queste due Combina anche queste Grazie Cazzarola Ho solo un Uno spazio Questo è urf Quindi Quindi questo Ok Vai urf È il tuo momento Urf Ok a tempo di record Direi no? Andata bene È andata bene Fermi Prima mi occupo di voi Porca troia Che granate del cazzo Che ho lanciato Che granate del cazzo Che ho lanciato No anzi Meglio questa Ok Ho lanciato due granate Le due granate Peggiori Di tutta la mia esistenza Ok dai Come on Minchia Mi ha fatto malissimo Solo con una sola Cosa Porca troia Cosa troia Au Ok Via Me ne vado Me ne vado assolutamente Posso fare un cazzo A parte magari lanciargli una granata Cazzarola Via Dove siete Dove siete Dove siete Bezzi di stronzi Tu sei ancora lì Bastardo Vieni un po' Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo succede Non lo sto colpendo Ok Vaffanculo Colpisco così Ok 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 allora Mi sa che Questa tattica Per battere Licker È stata una Troiata Era molto meglio Fargli esplodere La faccia Con Con il fuoco Trofeo Esaminiamo il trofeo Oh guarda qua Che caso C'è una roba Sotto il trofeo Non me lo sarei mai aspettato Aspettate che gli faccio una foto Così Ecco fatto Bene Adesso a parte questo Mi sa che non c'è Nessun motivo Nessun motivo Di usare ancora Il trofeo Mi pare Non ne sono certo Però Ma Ah già Qua è dove devo Poi raffreddarlo Una volta che l'ho fatto Ok Minchiavo Sono incazzatelli Sembrano incazzatelli Posso ucciderli? Aspetta Se gli lancio Una granata Cazzo Quello non è morto Dove cazzo è andato? Minchia Ce l'ho dietro Catroia Addio pezzo di merda Ok Beh Insomma Ne è andata benissimo Però neanche malissimo Se non avessi lanciato Quelle due granate A caso Ma proprio A caso Per non dire A cazzo Magari sarebbe Ancora andata meglio Uh ma qui c'era un coso Ehi Ok 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 Allora Allora Adesso che ho ucciso I leaker Però questa merda Di arma Non mi serve più Una pippa Quindi La deposito Immediatamente Ma proprio Immediata Subito Ok E mi prendo Di nuovo Questa Magari L'acido Sì Magari Mi servirà dopo Adesso Sicuramente no Prendo Altre tre Munizioni incendiarie E me le piazzo qua Poi 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 mi sa Che Mi serve Qualcosa per curarmi Perché se adesso Mi colpiscono Mi inculano male Ma proprio malissimo Ehm Dove sono le cose Per curarsi Qua La miscela Così Il coltello Beh ce ne ho già uno Ehm Le granate Ma ho solo Granate sordenti Adesso Sì Giusto Giusto Questo Questo Perché sono stronzo Ehm Ehm Ma non avevo Altre Munizioni Scusate Non avevo Munizioni Per Per la Magna Ah sì Sono qua Guarda che scemo Che sono Ne prendo Esattamente Tre Così me la Ricarico E sono a posto Per un attimo Ok Ok E mi servono Anche In nove millimetri Un pochino Sì Proprio Giusto Un attimino Eh Ok Va bene Va bene E questo Che cazzo Minchia un coltello Di nuovo Coltelli Me ne faccio Un cazzo Adesso In questo Preciso istante Proprio Un cazzo Me ne faccio Dei coltelli Ok Scemo Io che non sono Andato lì a salvare Prima Mi sarei Evitato Una figuraccia Oltre che Un po' di tempo Perso Ma va bene Non siamo Tutti perfetti No Io sicuramente No Come potete vedere Oh mio dio Ok Vaffanculo Ti sparo Con una pistolazza Ma sei il serio E non E non ho potuto Neanche Contraattaccarlo Ma che cazzo Sta succedendo A sto gioco Che non ha più regole Cioè Mi state dicendo Che non ho un coltello Ma si che ce l'ho Un coltello equipaggiato Ma allora Che cazzo Succede qua Qualcosa Davvero di Di strano Ok Ok Vaffanculo Direi che l'ho Accoltellato Abbastanza Oh mio dio Ancora Oddio No questo È uno di quei cosi Non va bene Per un cazzo Ok Ancora Però qui Bene Questa No Pensavo fosse un'erba verde All'inizio E poi Ho notato Che invece No col cazzo Ok Potete crepare tutti Grazie Che ci devo ripassare qui Quindi Quindi se Se morite Mi fate un favore Ti taglio le gambe Ciccio Ti taglio le gambe Io te lo dico Che ti taglio le gambe Ok Mi ho tagliato le gambe Perfetto Oh oh Sento qualcuno Chi chiavolo è Lo vedo anche Ma sul serio Un cazzo scatta Oh Te lo dico io Che problemi hai Che sei morto Questo è un grosso problema Che hai adesso Ehm No Che diavolo sto facendo Come inserisci Posso inserire Le cose La polvere da sparo Nella Nella pistola Così senza Senza Problemi Non lo sapevo Questo che diavolo è Ah è un coso Per Sono tutti mutati Sono diventati delle piante Continuano a tornare Ancora ancora Bruciamoli tutti Bruciamoli finché Il loro corpo Non diventeranno cenere Non c'è altro modo Bene Benissimo Sono assolutamente Incantato Da questa cosa Incantato dal fatto Che sto per crepare Senza un motivo Ehm Perché quello Non mi ha fatto fare Un contrattacco Quando avrebbe dovuto Lasciarmelo fare Visto che Visto che Ehm Avevo un coltello Equipaggiato Ma ehi Sti cazzi Quando Quando le fa filo Ste cose Sti cazzi Le regole non valgono Per lui Mi sa che devo iniziare A A preoccuparmi un po' Delle mie munizioni Eh già A meno che io adesso No Adesso non No Adesso no Dopo Magari dopo Adesso no 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 Adesso no